Perché la vera giustizia trasforma, non punisce, perché libertà e dignità sono i diritti fondamentali, liberiamo tutti, aboliamo le carceri e promuoviamo la giustizia transfeminista, perché la sicurezza vera nasce dalla giustizia sociale e non dalle prigioni, aboliamo le carceri per una società senza catene, le comunità curano, le prigioni feriscono, scegliamo la cura, scegliamo la cura, scegliamo la cura. We should be capable of finding ways of addressing the problems that jails and prisons purport to solve that are less damaging to our communities. Buonasera a tutti e tutti, bentrovati a Sherwood Festival 2024. È un onore e un onere anche aprire al primo dibattito di Sherwood Festival e non potevamo che cominciare con una frase. La migliore vita sociale è la vita condotta collettivamente, la vita comune. Tony Negri, a cui va il nostro immenso ringraziamento e a cui abbiamo dedicato questo festival. Ecco, un primo dibattito che arriva all'indomani delle elezioni europee, delle elezioni che hanno visto l'ascesa delle destre in tutta Europa, la vittoria del primo partito di governo in Italia, ma forse, magari forzando un po' anche le burocrazie delle proclamazioni ufficiali, la liberazione dalla misura cautelare in Ungheria di Ilaria Salis. Ilaria ha preso 174.000 preferenze rotte e potrà, a salvo forzature, godere dell'immunità parlamentare e fortunatamente uscire dal pozzo. Dopo 15 mesi di detenzione e qualche settimana in arresti domiciliari, sempre in Ungheria. Ma vi immaginate se tutti coloro che sono ingiustamente in carcere o in misura possano un giorno godere finalmente della libertà? Forse così è un po' semplice metterla giù in questi termini. Quindi, rendiamola ancora più difficile. Vi immaginate se anche i condannati in ultimo grado, quindi non più presunti innocenti, potessero essere fuori dal carcere? Questo è un po' più difficile, un po' più strano da immaginare. Ma poi, perché abbiamo deciso di associare l'abolizionismo al femminismo? Tanti me l'hanno chiesto, ma che senso hanno da mettere insieme? È vero, l'espressione femminismo abolizionista implica una bella dialettica, ma vive anch'essa di dubbi e contraddizioni. Eppure ci fa arrivare alla convinzione che le teorie e le pratiche abolizioniste siano più convincenti quando sono anche femministe. E allo stesso modo che un femminismo che è anche abolizionista costituisce una versione di femminismo moderna, inclusiva e persuasiva. Il femminismo abolizionista è una sorta di impegno politico che riconosce la relazione tra la violenza di Stato e la violenza individuale. Ebbene, oggi con questo dibattito cercheremo di andare anche contro i nostri limiti, contro i nostri pregiudizi e cercheremo di rispondere a quella domanda Perché si deve osare? Dobbiamo però metterci tutti in un ordine di idee più fattibile nell'infattibile. Questo è un percorso, un semplice dibattito. Non sarà una serata che darà risposte finali. Sarà un piccolo mattoncino sulla quale creare delle pietre angolari future, da collocare tutti e tutte insieme. Ma fortunatamente non sono da sola qui a parlare di tutto questo, ad affrontare questo peso. Qui con me, alla mia sinistra, Stefano Anastasia, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Lazio, tra i fondatori dell'Associazione Antigone, docente di filosofia e sociologia del diritto e di sociologia della devianza istituzione e controllo sociale è tra gli autori del noto libro Abolire il carcere, per chiare lettere, ultima edizione 2022, uno dei primi libri in Italia a parlare di questo tema. Invece alla mia destra, Valeria Verdolini, sociologa del diritto e attivista, presidente di Antigone e Lombardia e è da segnalare la sua postfazione a Aboliamo le prigioni di Angela Davis, per Minimum Fax, nel 2022. La vedete in collegamento direttamente da Glasgow? Giussi Palomba, traduttrice e scrittrice, si occupa di organizzazione comunitaria, il suo ultimo libro La trama alternativa, sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere, per Minimum Fax, edizione 2023. Grazie mille a tutti e tutte per essere qui. Entriamo subito nel merito, spiego un po' le regole di questo gioco, faremo due giri ciascuno di domande, partiremo un po' da delle analisi e magari sul secondo giro andiamo un po' più sulle proposte sul concreto. Iniziamo subito da Stefano, così rompiamo il ghiaccio. Allora Stefano, uno dei concetti che viene contrapposto all'abolizionismo è quello del riformismo. La stessa Angela Davis nel suo libro inizia con la domanda, ma riforma o abolizione del carcere? Poi questa distinzione si accentua quando nel dibattito politico i riformisti vengono ritenuti quei soggetti realisti, mentre gli abolizionisti vengono liquidati come utopisti, idealisti. Però nel decalogo di abolire il carcere ci spiegate che abbiamo bisogno di concepire le modifiche al sistema penale quali i presupposti dell'abolizionismo stesso e non come termini finali. Quindi in sostanza puoi spiegarci quali sono questi passi? Noi in quel libro facciamo un decalogo delle cose che bisognerebbe fare per arrivare al superamento e quindi all'abolizione del carcere. La sostanza io credo sia quella di prendere sul serio il fatto che le persone che sono punite dentro il nostro sistema penale penitenziario sono persone che hanno l'integrità dei loro diritti fondamentali, della loro dignità di essere persone. L'integrità della loro dignità di essere persone significa che seppure e fin quando saranno in carcere devono poter esercitare tutti i loro diritti fondamentali. E su questo bisogna fare dei passi che ci avvicinino al superamento del carcere. Ormai il sistema penale si giustifica tradizionalmente e poi ora ancora di più perché ci si è messa di mezzo la Corte Costituzionale che spiega queste cose eccetera 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 si giustifica per il fatto appunto di essere un sistema che non vuole toccare non vuole mettere in discussione i diritti fondamentali della persona che devono essere rispettati. La privazione della libertà deve essere, dice la Corte Costituzionale, solo privazione della libertà di movimento. Non è facile che la privazione della libertà sia solo privazione della libertà di movimento. Intanto perché appunto solo l'idea, diciamo, della libertà si porta con sé tante cose che non sono scritte da nessuna parte e che pure vengono costantemente private. E però questa, diciamo, tesi sostenuta, diciamo, in qualche modo da chi giustifica l'esistenza del carcere e della prigione, io penso, noi pensiamo anche in quel libro, che può essere rovesciata contro l'istituzione penitenziaria. Allora, sì, così è, va bene. Allora discutiamo di quali sono i diritti fondamentali delle persone pure in stato di privazione della libertà, pure in stato di esecuzione penale. E allora discutiamo di tutto quello che spetta alle persone che sono in carcere anche se sono state condannate per qualsivoglia reato. Ne abbiamo avuto un esempio recente con la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto il diritto all'affettività e alla sessualità in carcere. Un diritto che la Corte ha dovuto riconoscere non può essere compresso perché non c'entra nulla con la ragione per cui una persona è stata condannata. Questa cosa, diciamo, che oggi fatichiamo tantissimo, diciamo, sia a vedere attuata, cioè semplicemente l'amministrazione penitenziaria e il governo sperano di poter arrivare alla fine della legislatura fra tre anni, diciamo così, pur di non occuparsi di come applicare questa cosa perché l'istituzione penitenziaria è un'istituzione sessuofoba che non riesce a fare i conti con la sessualità. Viceversa però, diciamo, se questa cosa si riesce a rovesciare e cioè non solo, diciamo, sia a ottenere una sentenza della Corte Costituzionale come quella che è stata ottenuta nel gennaio scorso, ma a farla concretamente applicare, questa cosa è una cosa che, diciamo, come sosteniamo in quel libro e in mille altre occasioni, è una cosa che erode concretamente le mura della prigione. Questo è il punto. Cioè l'abolizionismo è, diciamo sì, in qualche modo un punto d'osservazione è una prospettiva rispetto alla possibilità di fare giustizia senza inflizione di sofferenza, senza inflizione di sofferenza penale, senza costrizione dentro un quattro mura, diciamo, ecco, è questa cosa qui, ma questa cosa si fa, diciamo, quotidianamente lavorando all'erosione delle mura del carcere. perché quotidianamente noi abbiamo a che fare con la sofferenza di decine di migliaia di persone che sono lì dentro e che sono private del diritto alla sessualità, alla comunicazione, alla possibilità di esprimere le loro opinioni. Questa è un'altra delle cose che il carcere cancella totalmente. Le persone detenute per poter esprimere le loro opinioni devono passare al vaglio dell'autorità che decide se quell'intervista può essere data o non può essere data. Una cosa che non è scritta da nessuna parte e che non si giustifica in nessun modo, diciamo. Ecco, allora, in questo senso, diciamo sì, è possibile, diciamo sì, fare passi e movimenti verso il superamento dell'istituzione, dell'istituzione penitenziaria. D'altro canto, se pensiamo alla nostra esperienza più importante, diciamo sì, di abolizione istituzionale, che è quella dei manicomi, quell'esperienza... Ti ho rubato la battuta? Quell'esperienza... Vabbè, dai, dai, dai. La dirai meglio tu dopo. Quell'esperienza... Quell'esperienza è un'esperienza che arriva alla sanzione formale dopo una pratica fatta, diciamo sì, da operatori, psichiatri, infermieri, gente che lavorava sul territorio, che l'istituzione l'ha erosa giorno dopo giorno. La decisione dell'abolizione è stato il fatto formale che è arrivato neanche alla fine a un certo punto di questo percorso, perché poi il superamento del manicomio è una cosa che continua e deve continuare ancora oggi perché il manicomio altrimenti rinasce ogni volta sotto forme diverse. Mi fermo qui. Così? Grazie. Stefano, fai degli spoiler? No, vabbè, ma va benissimo, ci interconnettiamo. In effetti a Valeria volevo fare una domanda del genere partendo dalla frase di Angela Davis. L'orizzonte di libertà è praticabile solo attraverso una postura abolizionista e questa postura la dobbiamo concepire come culturale, come politica, ma soprattutto come pratica intersezionale. non è semplice, tu stessa scrivi nella postfazione che è una rivoluzione copernicana. Ecco, ma come ci approcciamo a questa rivoluzione? Cioè, possiamo partire effettivamente dagli esempi del passato? Assolutamente, la risposta è assolutamente. Intanto buonasera, grazie, è un piacere essere qui e ci tenevo a ringraziare Rossella e l'organizzazione per la cura che c'è stata per questo dibattito che non è scontata. No, davvero, cioè nel senso che sapere di che cosa si parla, essere accolti, aspettati, sono delle cose piccole ma che fanno la differenza. Secondo me sì, nel senso che io posso dire francamente che ho capito davvero Angela Davis, le leggende Basaglia, perché loro hanno avuto la grande capacità di dire in modo chiaro quello che altrimenti rimane vago, ossia che l'abolizionismo di per sé, se noi parliamo di abolizionismo, diamo una prospettiva finale, invece è una prospettiva iniziale. Se noi parliamo di abolizionismo come aboliamo il carcere, chiunque nel dibattito ti dice, poi cosa fai? E i detenuti dove vanno? Cioè si immagina l'abolizionismo come il punto d'arrivo. Quello che insegnano i Basaglia, parlo di Basaglia ma parliamo del gruppo esteso, di Gorizia, di Trieste, insomma da Franco Rotelli a Giovanna del Giudice, a tutte le persone che hanno attraversato e che continuano ad attraversare con forza e coraggio quegli spazi, ti raccontano che il superamento del manicomio era una fase intermedia, come giustamente ha detto Stefano, che arrivava dopo una pratica e dopo un'esperienza di vita, perché Franco Basaglia tra il 43 e il 44 finisce in carcere. Quando lui arriva all'ospedale psichiatrico di Gorizia, dice, ho sentito l'odore simbolico della merda, che era quello che avevo respirato in carcere. Solo che cosa succede? Che quando lui si trova a Gorizia, è lui l'istituzione, perché lui è il medico. E lui dice, mino firmo. Lui dice chiaramente che non sarebbe stato complice di quel modo di fare l'istituzione che è il nodo. Quando Stefano dice che bisogna ribaltare e dobbiamo partire dai diritti fondamentali, dobbiamo scardinare le mura del carcere, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che dobbiamo interrogarci su cosa l'istituzione fa. All'inizio dell'istituzione negata, i Basaglia dicono, cosa fa l'istituzione e cosa dice di fare? Allora, cosa fa il carcere? Noi sappiamo bene cosa fa il carcere. Comprime tutta una serie di diritti in cui il diritto alla libertà del movimento è solo uno dei diritti compressi. Quello è la sessualità e un altro. Che cosa fa realmente il carcere? Ce lo dicono in tanti, ma lo vediamo ogni volta che entriamo e che attraversiamo chiunque di noi attraversi le murate del carcere. Fa una separazione, soprattutto sulla base di classe. e questa è una delle note che vengono tracciate e cucite insieme da tutto il dibattito degli anni Sessanta. Pensiamo a Basaglia, pensiamo a Michel Foucault e della società punitiva, pensiamo a Goffman e quello che scrive Nasal. Tutti raccontano che c'è una trama di classe che va a costruire quel muro. Però la funzione dichiarata del carcere qual è? La rieducazione. Cioè il nostro dettato costituzionale ci dice che il carcere è la pena, anzi la pena non il carcere perché è molto diverso, la pena deve tendere all'umanità e ha come funzione esplicita la rieducazione del condannato. Quindi noi abbiamo una funzione manifesta che è quella dichiarata che la rieducazione che non viene quasi mai ottemperata perché noi abbiamo dei tassi di recidiva attorno al 70% e poi c'è un'altra funzione che è quella di separare. Quel muro separa. E separa sulla base della classe, sulla base del confine e separa attraverso tutta una serie di meccanismi che noi vediamo in maniera molto netta riprodotti. È vero che il carcere ha una composizione varia, parliamo di 61.000 persone. È vero che c'è una grossa differenza tra i reati contro la persona che sono i reati che provocano indignazione sociale e la pancia, diciamo, del penitenziario che è fatta invece di reati contro la proprietà. Fondamentalmente la cosiddetta rapina impropria è uno dei reati che abita di più le circondariali che frequentiamo ma anche i reati di violazione e il testo di uno con le sostanze superfacenti fanno la stessa cosa. Sono dei reati che potremmo definire in un modo un po' vetro se vogliamo di classe. Allora, quelle mura cosa servono? A fare e a rafforzare, a riaffermare e a confermare una divisa di classe. Allora, se noi vogliamo stare dove sta Angela Davis che lei portava tutte quelle contraddizioni nella propria storia, nel proprio corpo solo attraverso una visione di abolizionismo istituzionale possiamo ragionare di libertà. Se la guardiamo così allora lo capiamo. Ma attenzione, non è indolore questa scelta e Basaglia lo dice bene perché Basaglia ci dice quando io ho lavorato alla chiusura dei manicomi cosa ho fatto? Ho scodellato la miseria del mondo in tutte le città. Siete pronti ad accoglierla? Cioè, il punto nodale per ragionare di abolizionismo non è semplicemente la chiusura del manicomio prima o la chiusura del carcere oggi ma siamo pronti a stare in una città che ha la sofferenza sociale al nostro fianco o anche noi chiediamo la separazione da quella sofferenza sociale. Questa, secondo me, è la domanda a cui dobbiamo rispondere stasera o provare quantomeno ad interrogare. Applausi È molto interessante Valeria mi ha fatto venire in mente un aneddoto molto divertente che se volete vi condivido. Allora, quando mi sono laureata stavo portando questa tesi di criminologia sul superamento degli OPG gli ospedali psichiatrici e giudiziari e mi ricordo il mio presidente di commissione diritto commerciale che in napoletano mi disse ma signori ma mo che curim sti manicomio sti criminala dem tim No, mi è venuta in mente questa cosa perché poi è uno scenario che veramente terra terra potremmo definire che non ti aspetti da un professore universitario per dire quanto è insito anche questo interrogativo non solo tra le persone comuni ma anche tra docenti universitari che non arrivano a concepire un piano B una soluzione un'alternativa ma chiudendo tutte le porte a questi aneddoti che poi un po' da bar veniamo a Giussi che ci sta attentamente ascoltando lì da Glasgow le chiedo innanzitutto se ci sente bene e se ha provato ci senti Io vi sento benissimo Perfetto grazie Giussi vengo subito a te perché abbiamo parlato di riforme di rivoluzioni copernicane e la giustizia trasformativa si colloca proprio pienamente in questo scenario e rileggendo un po' di letteratura mi sono ritrovata con Belux che chiedeva ma come si fa a rendere una persona responsabile di un torto commesso e allo stesso tempo a restare in contatto con la sua umanità quanto basta credere nella sua capacità di trasformarsi l'ho trovata veramente illuminante e con la consapevolezza anche che la forza penale di Stato non approda quasi mai a un soddisfacimento personale del senso di giustizia per le vittime ma può davvero la giustizia trasformativa rappresentare una pratica un'alternativa praticabile e come si riesce a superare quello che anche Valeria diceva quel punitivismo interiorizzato Allora innanzitutto anch'io vi ringrazio per l'organizzazione e per il fatto che la mia presenza online richiede una dose in più di appunto di tecnica e ascoltavo con molto piacere gli interventi di Stefano Anastasia e Valeria Verdolini e devo dire che sono molto d'accordo con quello che hanno detto per quanto riguarda le alternative io credo che sia importante ribaltare un po' questa prospettiva e più che chiederci se le alternative sono praticabili è capire da dove vengono queste alternative che sono già praticate e provengono da un'analisi che il servizio il sistema penale non garantisce tutte le persone allo stesso modo e non protegge tutte le persone allo stesso modo per cui questo produce dei margini produce comunità che sono marginalizzate ed è proprio da queste comunità marginalizzate che si sono cominciate a produrre delle alternative ma in realtà sono sempre esistite delle strategie per ridurre la prossimità delle persone con la brutalità con la violenza che non è solo la violenza interpersonale o la violenza di strada ma è anche la violenza dello Stato in qualche modo per cui parliamo di forme di autoorganizzazione in realtà sempre esistite e parliamo invece di quello che dall'inizio degli anni 2000 si è cominciato a diffondere e cioè le comunità che si occupano di giustizia trasformativa hanno cominciato a buttare giù materiali un archivio delle proprie pratiche una diffusione più massiva al servizio di altre comunità che volessero intraprendere gli stessi percorsi che stavano tracciando l'oro in qualche modo dicevamo prima di andare oltre il limite questo andare oltre il limite è un esercizio è esso stesso una pratica che spesso non ci concediamo perché anche a partire dai movimenti sociali in qualche modo ci siamo costruiti degli spazi di sicurezza anche all'interno della critica allo Stato anche all'interno della critica al servizio penale e ci fa quasi paura navigare il tema delle pratiche alternative perché effettivamente sono dei sentieri che non sono stati ancora tracciati e che non necessariamente riescono a garantire la sicurezza delle persone coinvolte in episodi di violenza per questo è molto importante quello che già hanno prodotto le comunità marginalizzate le comunità che si sono affacciate alle pratiche alternative dicevamo all'inizio degli anni 2000 abbiamo uno dei primi uno dei primi documenti che è quello di Insight che è questa organizzazione di donne e persone di genere non conforme che combattono la violenza e che producono un documento in cui analizzano qual era la situazione dei movimenti anticarcerari e analizzano il fatto che appunto la protezione dello Stato non era estesa anche ai margini della società sicuramente che l'approccio penalista per fermare la violenza non solo era una soluzione a breve termine ma era anche inefficace e quindi fanno presente che questo approccio criminalizzante non ha assolutamente avuto nessuna efficacia appunto nel ridurre o eliminare la violenza nella società e questo documento analizza anche appunto il fatto che le prigioni non funzionano e d'altra parte però comincia a criticare anche i movimenti anticarcerari tradizionali che spesso non hanno tenuto conto della questione della violenza sulle donne e sulle persone di genere non conforme questo cosa significa che per la prima volta si parla di femminismo e di abolizionismo in maniera critica mettendo al centro le esperienze e le analisi delle persone che soffrivano la violenza nel quotidiano e che richiamavano anche a un'attenzione sulla questione della violenza interpersonale cioè non vedere soltanto la questione dell'abolizione del carcere come una questione sistemica ma cosa della società punitiva penetrava anche in qualche modo nelle relazioni interpersonali sia nel momento in cui la violenza veniva agita ma anche nel momento in cui si cercava una soluzione alla violenza il senso della giustizia davanti a quella violenza oggi esistono tantissimi materiali per cominciare a ragionare su questi temi uno dei materiali che uso spesso durante i workshop che facciamo rispetto rispetto a questi temi è un workbook un quaderno che viene dato alle persone che subiscono la violenza all'interno di alcuni dei rape crisis qui in Gran Bretagna che potrebbero essere equiparati ai centri antiviolenza italiani in cui si fa una domanda che sembra molto semplice ma non lo è che cos'è per te giustizia perché la società occidentale ha effettivamente fatto coincidere la giustizia con la punizione e queste due cose si sono fuse indissolubilmente quando si va a parlare con le persone che hanno subito violenza non per tutte le persone il senso di giustizia è l'idea di giustizia è la stessa alcune cercano riconoscimento alcune cercano accountability alcune cercano punizione ma altre cercano anche percorsi di responsabilizzazione quindi aprire spazi innanzitutto e farsi delle domande più specifiche rispetto al senso della giustizia per le persone senza assumere che valga che la stessa risposta valga per tutte le persone coinvolte credo che sia anche il primo uno dei primi dei primi passi per per cominciare a parlare di punitivismo interiorizzato grazie mille giusi siete stati bravissimi cioè proprio nei tempi quindi non me l'aspettavo da professori universitari anche da giusi che è scrittrice quindi fantastico siamo già giunti alla seconda parte e l'avete un po' già un po' toccati tutti però quando si parla di abolizionismo Stefano spesso tutti noi in prima persona ci imbattiamo in quelle risposte un po' prevedibili specie se ad avanzare questa domanda sono le donne o comunque le persone di genere non conforme per legittimare l'esistenza delle carceri si fa sempre leva su temi più sensibili e più spiacevoli quindi eh ma come si fa se c'è uno stupro ma se c'è un femminicidio la violenza di genere e gli abusi la pedofilia cioè quindi spiegando sempre quei reati che fanno un po' leva anche sulla morale sull'etica personale però se si parte da uno scenario nostrano che è quello carcerocentrico ma davvero le donne le persone trans le persone non binari sono più protette le strade sono più sicure cioè si uccide di meno perché i potenziali colpevoli di reato sanno che probabilmente andranno in carcere e quindi la domanda è ma la pena carceraria assume davvero per le violenze di genere una funzione deterrente e preventiva assolutamente no posso posso venire così così assolutamente no nel senso che non assolve ad alcune di queste funzioni ovviamente assolve alle funzioni a cui la pena è generalmente chiamata diciamo oltre quelle diciamo di distinzione sociale di classe a cui faceva riferimento prima Valeria assolve a una funzione simbolica di rappresentazione della reazione sociale al male denunciato assolve a questa funzione ma nulla che abbia a che fare con quella pretesa diciamo di come dire di deterrenza o addirittura di rieducazione perché ora peraltro diciamo questo tema ha portato negli ultimi negli ultimi anni ormai è una presenza molto molto importante di maltrattanti e uomini che hanno agito violenza nei confronti di donne dentro le nostre carceri con l'idea che e dove vengono sperimentate ogni genere di attività con l'idea che possa esserci una tra virgolette rieducazione rieducazione a cui peraltro lo stesso la stessa istituzione non crede fin in fondo semplicemente la pretende perché fa parte diciamo sì della cerimonia istituzionale senza poi dargli poi dargli un esito ma risponde a questa dimensione simbolica e risponde anche anche questo e su questo dobbiamo interrogarci evidentemente anche a una funzione di giustamente come dicevi tu all'inizio di legittimazione dell'istituzione visto che parliamo di abolizionismo io vi racconto una delle esperienze per me diciamo sì più emozionanti di pratica abolizionista è stata quando nel 2006 è stato approvato l'ultimo provvedimento di clemenza generalizzata che c'è stato in questo paese c'è un indutto di tre anni e appunto fu esperienza per me che in quel momento diciamo sì lavoravo esattamente dentro l'istituzione perché ero il caposegretaria di Luigi Manconi allora sottosegretario alla giustizia che fece quel provvedimento e ricordo l'emozione di un pomeriggio nel carcere romano di Rebibbia quando i detenuti che mettevano in scena uno spettacolo per festeggiare diciamo l'evento per festeggiare l'evento e man mano arrivava un poliziotto e urlava un cognome e poi liberante che è il modo con cui i detenuti vengono chiamati per appunto poter uscire dal carcere man mano che arrivavano dalla procura gli atti di i conteggi del fine pena di quelli che erano sotto i tre anni di pena venivano chiamati così e uscivano e magari lasciavano a metà questo spettacolo in cui i protagonisti si sono cambiati in continuazione perché ogni tanto ce n'era uno che veniva chiamato fuori ed per me è stata un'emozione enorme assistere a questa cosa è stata un'emozione enorme però per esempio appunto nella nella canea che ci fu in quelle in quelle settimane in quei mesi prima e dopo l'approvazione dell'indulto il mostro aveva un nome e cognome diciamo il mostro era il mostro diciamo e cioè l'autore della strage del Circeo che era in carcere che è tuttora in carcere in un carcere della regione di cui sono garante quindi ne sono garante diciamo e che ci veniva ogni volta sbattuto contro perché e allora che cosa facciamo di Angelo Izzo ecco questo è diciamo così quindi diventa a questo punto la risposta punitiva tradizionale reclusoria istituzionale della persona violenta diventa lo strumento della rilegittimazione dell'istituzione e questo si riproduce all'infinito io ho fatto il garante anche in Umbria dove c'era un'altra storia che era quella del famoso mostro di Foligno che è stato diciamo spedito in Sardegna e dimenticato in Sardegna perché nessuna comunità Umbria voleva averlo neanche quando hanno chiuso gli OPG questo è diciamo allora queste sono le cose che servono la mostrificazione serve a rilegittimare diciamo l'istituzione ma non serve non serve mai a rispondere a quel bisogno di giustizia di cui prima parlava Giussi questo è il punto diciamo e quindi io credo diciamo sì che bisogna lavorare sul bisogno di giustizia delle persone non su diciamo così la rappresentazione appunto un po' più semplice va bene vediamo ok scusami che non ti vedo perché ho il faro contro ma va bene ti ho ascoltato va bene va bene allora questo è diciamo così il problema che con cui appunto bisogna bisogna fare fare i conti quando si tratta di queste queste cose cioè che l'istituzione viene rilegittimata diciamo attraverso l'esibizione del caso limite e quindi anche del caso limite della violenza della violenza contro le donne dentro un'idea ovviamente questa perfettamente diciamo patriarcale per cui sono altri che decidono altri maschi nella comunità diciamo di coloro che in qualche modo fanno fanno opinione che decidono appunto l'insufficienza di una risposta la necessità di una di una risposta di una risposta punitiva e veniamo un po' a un po' di attualità anche abbastanza triste che abbiamo vissuto comunque a Padova in prima persona come movimento trasfeminista intersezionale e parlo chiaramente del femminicidio di Giulia Cecchettin che per tutti e tutte noi ha chiaramente rappresentato uno squarcio indelebile incolmabile ma da quello possiamo dire che ha rappresentato anche una sorta di spartiacque per il movimento femminista intersezionale perché in quelle piazze anche subito dopo la notizia non abbiamo visto né mai sentito delle elevazioni di richieste di ergastolo o di più carcere o abbiamo bisogno di più sicurezza più forze di polizia mai assolutamente le parole erano molto dure ma non su quel versante lì e Valeria volevo chiederti ma abbiamo assistito a un cambio di impostazione cioè cosa è successo è vero che c'è stata una sorta di spinta anche germinale alla creazione di questo immaginario abolizionista trasformativo come dicevo prima a Rossella mi ha lasciato veramente una domanda complicata in questo dibattito complicata perché mi tocca direttamente tocca la mia storia la mia storia di una persona estremamente garantista ma anche di una persona che ha una storia femminista e se si seguono i due sentieri del femminismo da una parte e del garantismo dall'altra c'è un punto di caduta che è il punto di caduta che sta tra il sorella io ti credo e la presunzione di innocenza allora se noi veniamo da due percorsi che sono fatti di credere alla violenza quando viene raccontata perché il problema è che la violenza non è creduta da un lato e dall'altra parte credere a un sistema che ti presume innocente perché altrimenti sei colpevole immediatamente quindi puoi essere oggetto di violenza istituzionale noi ci troviamo in una situazione in cui è estremamente difficile stare e costruire uno spazio in cui queste due visioni si incontrano eppure quello spazio c'è cioè il punto di partenza quello spazio c'è e c'è se mettiamo insieme le tradizioni abolizioniste anche se permettetemi non vorrei essere troppo tecnica e se lo sono me lo dite che la ridico più chiara che sono due modi diversi di abolire cioè quando noi diciamo aboliamo il carcere aboliamo il patriarcato stiamo facendo operazioni parallele ma diverse perché il carcere ha dei margini di abolizione attraverso le riforme istituzionali così come si è superato il manicomio se volessimo possiamo superare il carcere ma dall'altra parte invece non abbiamo uno strumento istituzionale che da un giorno all'altro possa dire abbiamo superato il patriarcato questa cosa non è possibile in quel modo lì perché va non a non a decostruire degli strumenti di governo della cosa pubblica cioè comunque il carcere è un'istituzione dello Stato ma delle strutture che sono strutture culturali il patriarcato è un sistema simbolico che produce delle norme che hanno degli effetti performativi permanenti sui modi con cui le persone si comportano e leggono il mondo per dirla male insomma l'ho detta male ma è stata una lunga giornata scusatemi quindi sono due cose molto diverse che cosa ha di interessante pur nella tragedia la vicenda di Giulia Cecchettin che a prender parola è stata soprattutto Elena Cecchettin la sorella che ha fatto prima di trovarsi purtroppo in quella situazione drammatica un grosso lavoro culturale quindi lei aveva un lessico diverso che non era il lessico vittimario ma era il lessico in cui il caso particolare viene letto in una chiave strutturale lei dice non è un mostro non è un caso eccezionale perché l'eccezionalità che poi ti fa saltare quel meccanismo sistemico perché quello è un mostro quindi non guarirà mai usando il paradigma biologico oppure non ci sarà mai un progetto culturale in grado di trasformare questa cosa mentre se diventa un pezzo strutturale quando lei dice il figlio sano del patriarcato ci dice uno che potenzialmente tutti noi possiamo essere toccati dalla violenza e quello è anche il motivo per cui quel caso ha avuto quella forza e ci ha emozionato tutte tutti perché non aveva nulla diciamo di tutte quelle serie di fattori predittivi che si raccontano nel lavoro di imprevenzione sulla violenza fondamentalmente ma dall'altra parte lei lo mette a sistema e quindi quello che accade a lei diventa un problema collettivo non è un problema individuale ma è un problema collettivo e quindi i casi sono collettivi e il lavoro è collettivo ma soprattutto il lavoro deve essere culturale perché se noi chiediamo al penale di mettere una pezza sul patriarcato non ne veniamo a capo insomma non l'ha fatto non lo farà io ho anche dei grossi problemi mi sta bene nominare in un momento in cui c'è bisogno di attirare l'attenzione del dibattito nominare i casi come i femminicidi ma la categoria femminicidi per me è molto complessa è molto problematica se la guardiamo da un punto di vista penale va bene come processo come processo in cui si passa la nominazione ma poi diciamo ok il diritto penale a cosa ci serve fino a che punto ci serve e soprattutto abbiamo degli altri strumenti che possiamo mettere in campo per essere libere per essere libere e per non aver paura perché quello è il punto perché lo strumento penale tra l'altro non fa altro che affermare costruire la paura sono state in classe poco tempo fa faceva un corso sulla sicurezza con delle studentesse e delle ragazze di vent'anni anche in parte per quello che è accaduto nell'ultimo anno per come c'è stata un'attenzione nell'ultimo anno su questi test sono terrorizzate terrorizzate dalle relazioni interpersonali quello è il nostro problema oltre poi al lavoro di prevenzione e sicuramente al lavoro di riduzione della violenza ma noi dobbiamo lavorare per essere liberi non per essere vittime e questa è secondo me una delle chiavi difficili non è che c'è la soluzione però da cui dobbiamo partire quindi il lavoro lo strumento penale è per me insomma uno dei tasselli perché non ne abbiamo inventati degli altri o comunque non ne abbiamo ancora inventati degli altri che possono essere scalabili sui grandi numeri in questo momento soprattutto in un momento in cui le elezioni di ieri ci raccontano che le persone vogliono la punitività ne vogliono tantissimi di punitività e quindi dobbiamo anche confrontarci con quello spazio culturale diverso ma dall'altra parte noi dobbiamo lavorare su delle altre cose che sono degli strumenti di libertà degli strumenti di emancipazione che il femminismo ci ha dato e che sono uno dei modi per abolire il patriarcato usiamo la stessa parola che abolizionismo ma facendo cose diverse che passano entrambe però da un lavoro culturale grazie Valeria ritorniamo a Giussi partirei da una frase che ho rinvenuto nel tuo libro e scrivevi come possiamo cambiare il mondo se non sappiamo nemmeno gestire un conflitto interno è un bel interrogativo chiaramente questa frase può essere concepita sia dal punto di vista estremamente individuale quindi il conflitto interiore sia come un conflitto all'interno di una comunità di un collettivo anche militante o di attivisti ecco e partendo dalla tua esperienza vorrei chiederti di soffermarti sulle possibili ricomposizioni di un collettivo o comunque di una comunità successivamente a una violenza o a una molestia chiedendoti quali sono le pratiche da poter attuare e inoltre una domanda che sorge spontanea anche perché nei scorsi mesi nell'ultimo anno ne stiamo sentendo di tante operazioni molto positive che sono quelle di autocoscienza maschile possono essere davvero utili ad approdare a quella cultura di ricollinciliazione tra donne e uomini che potrebbero finalmente incontrarsi e immaginare un terreno comune questo è sempre belux allora da dove iniziare sulla questione dei conflitti interni ovviamente e probabilmente mi riferivo a conflitti interni all'ambito dei movimenti sociali e in questo ultimo periodo abbiamo appena concluso un ciclo di incontri che si è dedicato proprio a questo il cui titolo era un limone in tasca abbiamo scelto il limone come un po' simbolo sia della digestione del conflitto ma anche come un oggetto che ci portiamo nella piazza per gestire il conflitto di piazza e una delle critiche anche che viene fatta alla questione della giustizia trasformativa è ma vogliamo eliminare il conflitto che è quello che poi per noi che apparteniamo ai movimenti sociali è anche motore di cambiamento la questione del conflitto interno ai movimenti sociali è in realtà molto parlo di conflitti e non di violenze è molto dibattuta nel senso che la questione è cercare di non rompersi davanti alla minima difficoltà e quindi come facciamo a superare le polarizzazioni all'interno dei gruppi e avere anche la possibilità di ottenere delle comunità abbastanza solide da poter addirittura attraversare processi trasformativi in seguito alle violenze questo è appunto l'idea di provare a imparare a superare i conflitti interni per c'è uno slogan in inglese che dice we want to look after each other to be dangerous together vogliamo prenderci cura di noi per poter essere per poter essere pericolosi insieme cercare appunto di costruire queste pratiche attraverso la costruzione di una solidità di una solidità interna per quanto riguarda diciamo anche le pratiche dell'abolizionismo femminista io credo che uno dei limiti appunto di cui parlavamo di cui parlavamo prima sia quello di riconoscere che forse le 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 idee prodotte dal femminismo bianco occidentale non possano essere calate su tutti su tutto su tutto il mondo ma anche su tutti i mondi che esistono all'interno delle nostre città sulle periferie delle città sulle sulle zone che non sono toccate da diciamo quella sorta di idea di emancipatoria che ci viene un po' calata appunto da questo tipo di elaborazioni e che poi ci rende molto difficile agire il cambiamento io faccio soltanto degli esempi quello che è risultato in alcune aree periferiche delle città statunitensi dove viene applicata la giustizia trasformativa è ad esempio cominciare a sviluppare delle pratiche culturally specific che in inglese vuol dire specifiche per la cultura a cui si fa riferimento dove la violenza è avvenuta ad esempio abbiamo comunità migranti su cui viene spesso calata un'idea di sicurezza e un'idea di possibili conseguenze alla violenza di genere possibili percorsi in seguito alla violenza di genere che non sempre valgono per quella comunità perché l'organizzazione interna di quella comunità non risponde alle elaborazioni femministe che noi cerchiamo di calare su quella cultura e si è visto che facendo dei percorsi che sono culturally specific si riesce ad essere più efficaci in generale siamo deprivati a livello di tessuto sociale di figure che si dedichino in maniera formata alla risoluzione alla trasformazione alla rieducazione e io parlo sempre di politiche dal basso parlo sempre di figure che la comunità stessa può produrre e in questo modo ridurre la violenza che viene generata anche dallo Stato altre idee per praticare alternative sono diventare ancora superare questa idea un po' diciamo c'è una difficoltà a pensare che dobbiamo occuparci anche degli uomini noi come femministe dobbiamo prenderci cura di quelli che agiscono violenza la risposta non è così semplice però a me piacerebbe dire e poter dire più liberamente del fatto che non vogliamo fare questo perché siamo di buon cuore ma perché risulta essere più efficace ci sono persone che si stanno formando per riuscire a lavorare anche con gli uomini e questo non deve essere più un tabù ma in questo periodo vedo che si stanno portando avanti i progetti del genere ed è chiaro che si sviluppano anche delle criticità e si sviluppano anche degli scetticismi davanti ai percorsi di autocoscienza maschile per quanto mi riguarda sono percorsi che dovrebbero sempre partire dal basso ed evitare l'idea della visibilità per me un gruppo di autocoscienza maschile probabilmente prima di essere visibile prima di poter produrre teoria o produrre elaborazioni ha bisogno di lavorare molto su se stesso io non so se in Italia possiamo parlare di sicuramente ci sono dei gruppi che stanno nascendo in seno ai movimenti non so a livello storico quali sono i gruppi che hanno lavorato sulla questione dell'autocoscienza maschile quindi non mi non mi posso esprimere su questo però sappiamo che dai gruppi di autocoscienza maschile possono nascere anche delle possono emergere alcuni dei bisogni di cui le comunità potrebbero potrebbero giovare per evitare il nascere di conflitti e all'estremo di violenza abbiamo bisogno di supporto alla genitorialità di infrastrutture sociali nei quartieri tantissimi esempi vengono da quartieri che durante il periodo pandemico ma anche dopo mi sono arrivati racconti di persone che hanno notato che il fatto di essere presenti fornendo beni di prima necessità all'interno dei quartieri è riuscito a questa sola attività è riuscita a diminuire i casi di violenza perché uno dei fattori che all'interno di comunità chiuse determina il verificarsi della violenza è molto di più l'isolamento e l'alienazione dalla società per cui ritorniamo a quei margini che non dobbiamo sicuramente romanticizzare ma in cui effettivamente si producono delle alternative a cui spesso non diamo nessuna importanza sappiamo benissimo che lo spazio della trasformazione della rieducazione si sta riducendo tantissimo si sta chiudendo tantissimo e sappiamo benissimo che se una violenza si verifica in territori come quelli di Caivano arriva l'esercito ma se una violenza la agisce il figlio di Larussa o il figlio di Grillo non arriva di certo l'esercito ma abbiamo una copertura mediatica che permette di vittimizzare di scusate di dipingere come come vittima imperfetta chi ha subito la violenza e e far e far diciamo scomparire dal dal quadro chi l'ha agita grazie mille Giussi beh io vi direi di lasciarvi un po' liberi anche fuori dal precompilato no anche di aggiungere cose che volete magari rispondervi tra di voi sempre sul tema ti diamo l'onore di iniziare direi sì sì un po' fuori dalle domande perché magari noi le abbiamo impostate sulle cose che ci interessavano però voi magari volete aggiungere qualcosa ma non saprei dire ora mi cogli dalla sprovvista non ho non ho non mi ero veramente preparato nulla diciamo quindi insomma sì io penso questo che appunto per uscire dall'ossessione punitiva bisogna avere la forza di coltivare un altro tipo di relazioni in questo appunto che certamente è una una pratica che si può fare avendo quella postura come dicevi oppure l'orizzonte diciamo così scegliendo un punto diciamo da cui si può vedere un orizzonte un orizzonte abolizionista io credo che in questo diciamo c'è molto utile lo dico diciamo da maschio che ha sempre diciamo così seguito di fianco le pratiche le culture le esperienze femministe per relazioni personali diciamo sì molte mie maestre della mia compagna diciamo ora di mia figlia diciamo insomma qui ho imparato molto diciamo e penso che appunto il femminismo ci dà tanto ci dà tanto perché ci dà esattamente quell'idea della cura delle relazioni in questo senso diciamo sì abolizionismo e femminismo diciamo si stanno insieme diciamo perché il femminismo ci aiuta diciamo a pensare ad avere quella quel punto d'osservazione quello sguardo abolizionista non per diciamo una movenza intellettuale razionale astratta ma perché appunto ci insegna che il cambiamento si fa nelle relazioni con le persone e dunque diciamo una prospettiva abolizionista si può fare diciamo si può perseguire dentro la relazione con le persone che è l'unico modo per fare le cose diciamo sì non semplicemente per annunciarle diciamo sì oddio no grazie stefano perché devo dire che quando abbiamo impostato questo dibattito la domanda è stata ma perché c'è un uomo lo voglio dire proprio palesemente però tu ci hai dato una risposta noi non volevamo che fosse un dibattito di donne fatto per le donne cioè doveva essere ulteriore quindi grazie per averlo detto caspita ecco e mentre parlava stefano e faceva il femminista no perché attenzione io non lo io non lo dico di meno ho avuto anche su questo una discussione con mia figlia diciamo se io mi devo dichiarare femminista oppure no e io penso che in quanto maschio sto bene di lato diciamo così però però imparo diciamo e cerco di praticare quello che imparo però richiamando diciamo l'etica della cura in qualche modo in realtà l'etica della cura si ritrova anche nella storia abolizionista che abbiamo richiamato stasera cioè fondamentalmente l'utopia della realtà o quello che io chiamo il realismo magico basagliano è immaginare di poter davvero riportare ogni ogni malato persona e quindi instaurare la relazione di cura e tra l'altro insomma ritornando al carcere custodia viene da cura cioè sarebbe un incarico di cura essere in custodia dello Stato cosa che che manca ma il lavoro di cura è il lavoro di relazione quindi il lavoro interpersonale è la condizione minima sia per ragionare di trasformazione nonché per immaginare la dimensione di comunità perché senza cura riconoscimento reciproco l'idea stessa di comunità e più scalare di società diventa molto difficile per cui c'è un nodo comune che ti dice tu devi vedere l'altro tu devi pensare l'altro e devi stare accanto all'altro se no questa cosa non si può fare in ognuna delle dimensioni che abbiamo visto stasera secondo me giusi se vuoi aspetta che non ti sentiamo prova non so se mi sentite ottimo ok no non posso che aggiungere che non esiste abolizionismo senza femminismo cioè il femminismo non deve aiutare l'abolizionismo ma credo che le persone che hanno cioè il femminismo debba stare al centro della della prospettiva abolizionista e soprattutto al centro devono essere le esperienze delle donne e delle persone che hanno subito la violenza perché la loro analisi è quella che ci permette di tenere tutto insieme quello che ci permette di fare quello che diceva quello che diceva Bellux dopo un ragionamento che serva a dividere giustizia e punizione riusciamo a mantenere insieme l'idea di rendere accountable le persone che hanno che hanno agito la violenza senza rinunciare a vedere la loro umanità è bene grazie no è stato veramente un dibattito penso anche per il pubblico che non vedo interessante una cosa che volevo dire giusto per arrivare alla chiusura è che anche per noi come movimento come Sherwood Festival è stato un percorso cioè in questi anni abbiamo sempre dedicato uno spazio di discussione alle tematiche del penale alle tematiche della repressione in passato abbiamo parlato di abusi indivisa o anche di morti di stato l'anno scorso abbiamo parlato di 41 bis e del caso cospito oggi se notate siamo arrivati all'abolizionismo quindi è stato anche per noi un percorso molto graduale interconnetterlo poi con la tematica del transfemminismo è stata una svolta perché lo diciamo anche noi tra compagne cioè spesso non si parla mai di questa tematica declinandola all'interno di un contesto italiano la letteratura su questo tema è specialmente americana cioè fortunatamente Angela Davis ci ha dato una chiave per poterla anche interpretare ma non basta perché lo scenario americano sappiamo che è veramente totalmente l'opposto rispetto al nostro contesto più del bel paese e quindi dibattiti come questi possono essere veramente utili e necessari per costruire il nostro immaginario abolizionismo abolizionista che nasca proprio da questo paese quindi vi ringrazio veramente tantissimo per averne parlato qui in questa sede e venendo ai commiati oltre a ringraziare Giussi Stefano e Valeria che dopo resteranno Stefano e Valeria resteranno qui magari ci sarà l'occasione di fare delle chiacchiere all'atre anche fuori dal palco volevo ricordarvi che Sherwood Festival avrà tantissime occasioni di dibattiti lunedì prossimo parleremo di Europa dopo le elezioni con Judith Revell Sandro Chignola e Mezzadra quindi ci sarà un bel dibattito e quindi vi invitiamo anche lunedì prossimo ma il Festival tutto ha tantissime occasioni veramente di colloqui parlare intersezionalità è veramente molto ampio una cosa che volevo ricordare se siete interessati a questo tema in libreria qui a lato sulla sinistra Sharebooks ci sono tanti libri sul tema anche c'è un po' di Anastasia c'è un po' di Giussi Palomba c'è Angela Davis quindi andatele a trovare per studiarne di più e per questo vi auguriamo buona serata che dite va bene così va bene così grazie Sharewood e grazie a tutte le compagnie e i compagni che portano avanti questo festival e soprattutto ai compagni che hanno gestito la comunicazione i video il palco le riprese e anche il promo se posso chiedere alla ragia di rivedere il promo perché secondo me è molto bello il messaggio politico di questo festival e lo rivediamo insieme grazie a tutti e a tutte grazie a tutti grazie a tutti